Lecce, Pompei e Alberobello. Nella classifica delle 100 città da visitare nell'anno nuovo per l'ottimo rapporto tra qualità e prezzo medio degli hotel stilata dall'osservatorio Trivago ci sono ben tre italiane di cui due pugliesi. La città salentina e la culla dei trulli trionfano in pratica in Italia insieme a Pompei. In testa la classifica di Trivago c'è Monstar in Bosnia e Tegovina, patrimonio dell'UNESCO per il famoso ponte ottomano Stari Most, distrutto dal 1993 durante la guerra in ex Jugoslavia ma sono tanti luoghi citati dalla Cina al Peru, da Taiwan al Regno Unito. La seconda edizione della classifica prende in considerazione diversi parametri tra cui il numero minimo di hotel per città e la valutazione minima delle strutture ricettive in quelle città. In testa si piazza appunto Monstar con un rapporto tra qualità e prezzo medio che arriva al 97,37% vi si può soggiornare a una media di 49 euro a notte. Seconda in classifica Novi Sad in Serbia seguita da Li Yang in Cina, Plovdid in Bulgaria che assieme a Matera è stata votata capitale della cultura per il 2019 e Zeged in Ungheria a chiudere la top 5. In 36esima posizione si trova la città pugliese Lecce nota per la spettacolare architettura barocca seguita al 37esimo posto da Pompei con gli scavi noti in tutto il mondo e al 49esimo posto al Verobello, la capitale dei Trulli, patrimonio dell'UNESCO.